Tra poco l'intervista agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant e se il video sarà di tuo gradimento iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato. Ma ora non voglio rubarti l'altro tempo quindi buona visione. Iniziamo quindi con le presentazioni. Alexa, come ti chiami? Il mio nome è Alexa. Ok Google, come ti chiami? Sono il tuo assistente Google. Alexa, e quanti anni ha Chris Hemsworth? 9 minuti. Chris Hemsworth ha 35 anni e 3 mesi. Chris Hemsworth ha 35 anni. Quanto è alto l'uomo più alto del mondo? 2,5 metri. In base al sito web youtube.com, l'uomo più basso del mondo, il nepalese Chandrabahadur. Quanti chilometri sono 5 miglia? 5 miglia sono pari a 8 chilometri. 5 miglia uguale a 8,047 chilometri. Alexa, chiedi a Lisa Barman come preparare un mojito. Mojito cocktail. Bene, iniziamo. Quello che ci serve è, 4 centilitri rum cubano bianco, 3 centilitri succo di lime fresco, 6 foglioline di menta, 2 cucchiaini di zucchero di canna bianco, soda. Adagiare sul fondo del bicchiere la menta con lo zucchero e il succo. Ok Google, sai come preparare un mojito? Non sono sicuro della risposta, ecco cosa ho trovato sul web. In base al sito web comefare.donnamoderna.com Ricetta del mojito originale. La ricetta originale del mojito cubano prevede del rum bianco cubano, un rametto di menta con 8 a 9 foglie, 2 cucchiaini di zucchero di canna bianco e dell'acqua gasata o soda, e del lime. Dove si trova il bar più vicino? In base al tuo codice postale, ecco alcune attività rinomate. Caffè delle Mura, Barluzzi, Mancini Claudio e Barluzzi. Ci sono almeno 10 posti nel raggio di 2 chilometri. La primo, Caffè 603, in via Circonvallazione Kennedy. È a 300 metri da qui e ha una valutazione di 4,5 stelle. Alexa, chiedi a Giallo Zafferano la ricetta per un primo piatto. Potresti ripetere? Alexa, chiedi a Giallo Zafferano la ricetta per un primo piatto. Ti suggerisco risotto alla zucca, spaghetti alla carbonara, crema di zucca. Altrimenti posso suggerirti qualche altra ricetta alternativa. Mi dispiace, non so come esserti d'aiuto. Ok Google, suggeriscimi un primo piatto per pranzo. Ok Google, una ricetta di un primo piatto? Mi spiace, non ho capito. Riproduci Bohemian Rhapsody dei Queen. Non trovo i Bohemian Rhapsody di Queen. Riproduci Bohemian Rhapsody dei Queen. Bohemian Rhapsody, Remastered 2011, di Queen, da Amazon Music. La scelta delle canzoni è disponibile solo per gli iscritti a Spotify Premium, però posso farti ascoltare questa stazione di Spotify chiamata Bohemian Rhapsody, operatic section a cappella mix 2011. Alexa, avvia Piozza sulla finestra. Ok Google, riproduci del rumore ambientale. Non ho capito. Ok Google, riproduci del rumore di una pioggia sulla finestra. Ho cercato rumore ambientale, ma non è disponibile al momento. Svegliami alle 7 con Wake me up before you go go. Sveglia impostata per domani alle 7 del mattino con Wake me up before you go go Remastered su Amazon Music. Questo dispositivo non permette di usare contenuti multimediali come sveglia, mi dispiace. Ho messo una sveglia normale chiamata Wake me up before you go go per domani alle 7 del mattino. Avvia un timer di 7 minuti. 7 minuti, a partire da ora. Va bene, 7 minuti, partito. Aggiungi un evento al calendario per domani alle 14. Certo, e qual è il nome dell'evento? Andare a fare la spesa. Programmo andare a fare la spesa per lunedì 12 novembre alle 2 del pomeriggio, ok? Sì, grazie. Ok, l'ho aggiunto. Con che nome vuoi salvare l'evento? Andare a fare la spesa. Ok, andare a fare la spesa domani alle 14. Vuoi salvarlo? Sì, grazie. Ok, ho salvato il tuo evento. Aggiunge alla lista della spesa le uova. Uova aggiunto alla lista della spesa. Ok, ho aggiunto le uova alla lista della spesa. Che tempo fa oggi? A Saltara, la temperatura è di 18 gradi Celsius, con nubi sparse. Secondo le previsioni di oggi, le condizioni meteo resteranno stabili, con una massima di 19 gradi e una minima di 10 gradi. A Lucrezia oggi sarà parzialmente nuvoloso, con una massima di 19 gradi e una minima di 9. Adesso ci sono 19 gradi e sole. Che cosa ha fatto il Milan nell'ultima partita? L'8 novembre, il Milan e il Betis hanno pareggiato, 1 a 1. Giovedì scorso il Milan ha pareggiato col Betis 1 a 1. Fammi ascoltare l'ultima notizia del giorno. Vediamo quali sono le ultime notizie. Trasmesso da RTL 102.5, giornale orario, oggi a mezzogiorno. RTL 102.5, giornale orario. E ora canto una canzone. Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Una canzone in scala ora ti do, la canto e mi sento un re. Ma per l'emozione io non mi ricordo il testo come fa. Spero di non essere il sol, allora unisci e ti e canta là. Questa canzone con me sì, se lo fai un applauso io ti do. Mi racconti una barzelletta? La maestra a Pierino. Pierino, nella frase il medico cura il paziente. Dov'è il soggetto? E Pierino, all'ospedale, signora maestra. Ecco, cosa dice un cane davanti a un albero di Natale? Finalmente hanno messo la luce nel bagno. Che cosa ne pensi di Siri? Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Sembra intelligente. Ok Google, facciamo un quiz. Grandioso, questo è decisamente meglio che dirti che tempo fa. Fammi entrare nel personaggio. Alexa, avvia Clam Quiz. Bentornati a Clam Quiz. In quanti siamo a giocare? Un giocatore o due giocatori? Quali sono gli ultimi migliori di Amazon? Non ho trovato ordini aperti per Edoardo. Ho trovato quattro ordini. Inizierò dal più recente. Il tuo ordine Amazon.it sarebbe dovuto arrivare da poste giovedì scorso. Poi, il tuo ordine Amazon.it sarebbe dovuto arrivare da... Alexa, chiedi a Tim il mio credito residuo. Ciao Edoardo. Benvenuto in Tim. Il tuo credito residuo sul numero 3 è di 3,33 euro. Mi spiace, al momento non so come esserti d'aiuto. Alexa, accendi luce camera. Ok Google, imposta il lampadario al 50%. Ok, imposto la luminosità di lampadario al 50%. Mi spiace, al momento non so come esserti d'aiuto. Alexa, buonanotte. Dormi bene e riposati. Spero che il video quindi ti sia piaciuto. In descrizione trovi i link d'acquisto per Google Home Mini e Amazon Echo Dot. Acquistando da quei link percepiscono una piccola percentuale che aiuta la crescita del canale. E se acquisti da lì, fammelo sapere che ti voglio ringraziare. Qui sopra trovi la playlist dedicata alla domotica 2.0 dal mio canale. Più sotto un altro video. Noi ci vediamo alla prossima. Stammi bene.